Buonasera, bentornati a Instant Book, idee e scritture per il futuro. E ospite conne oggi un mio amico caro, Francesco Cisternino. Allora, noi oggi avremo una puntata, come dire, complessa e molto densa. Io partirei subito con questa raccolta di racconti, tu hai dato un contributo tuo con un tuo racconto. La Puglia, ieri, oggi e domani, stilo editrice, in collaborazione con Puglia Libre, che è questo consesso, diciamo, di critici, autori, scrittori, che poi raccontano la Puglia, ma lo fanno in maniera, come dire, analitica. E questo è più che importante. In maniera anche particolare, ognuno con il suo taglio differente. Come nasce l'idea di questa raccolta? L'idea nasce da un concorso che la rivista Puglia Libre bandì attraverso il suo sito internet e a cui hanno aderito un po' scrittori vari, scrittori in erba e non. Ce n'è uno veramente in erba. In erba non perché film. No, 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 non per quello. Ma ce n'è uno che è veramente giovanissimo, un ragazzo di appena 17 anni, fra gli autori selezionati per questa raccolta. E ognuno ha dato il suo contributo con un taglio che non segue un filo logico. È del tutto personale, quindi è particolare. Il naufrago è il tuo. Il mio racconto è il naufrago, sì. Un racconto che nasce da un sogno, più che altro. Sul ciglio della strada, nel punto in cui la vista provenendo dal collo di Laureto si apre improvvisa sulla piana di Fasano, mi ero fermato a contemplare il sole ancora giovane che, già alto sulla linea dell'orizzonte, inondava della sua luce bianca e potente il mare grigio-verde delle eterni ulivi che si apriva di fronte a me. Ed è davvero un mare grigio-verde quello. Beh, chiunque conosca un po' quella visuale ha facile idea di cosa intende. È uno dei panoralli più belli di Puglia, quello lì. Molto particolare. Sì, assolutamente. Tra l'altro il contrasto fra la luce che si rifrange sulle foglie degli ulivi, che sono davvero un mare. Sì. È l'azzurro del mare quando c'è la luce adatta, perché a volte c'è un po' di foschia, però... Noi abbiamo due oceani, abbiamo quello degli ulivi e abbiamo quello del grano in capitanata. Quello del grano in capitanata è ancora più impressionante volendo dire che ci sono dei panorami mostruosi. Sì, sì. Quindi una raccolta di racconti, vanno i racconti? Questa è una domanda che io faccio agli autori che vengono qui. È una domanda buona. Diciamo che posso anche giocare un po' in casa, perché ho pubblicato tempo fa un'altra piccola raccolta di racconti con un altro editore di Roma, Il Filo, e già sapevo all'epoca che i racconti in Italia sono un genere abbastanza... Sì, abbandonato dalle grandi case di ufficio. Abbandonato, sì, perché si dice che non abbia mercato. Io da lettore dico che quando mi capita una buona raccolta di racconti me la compro volentieri, per cui non so fino a che punto sia una scelta... Io ti dico che mi sto spolpando le raccolte di racconti di Mario Rigoni Stern, che sono uscite recentemente con i Naudi. Involiamo un po' gli editori a pubblicare racconti. Ma certo, io ricordo una cosa. Qualche anno fa, abbiamo più o meno la stessa età, quindi ce lo ricorderemo entrambi, uscirono i famosi cento pagine e mille lire, in cui era a volte faccio raccolte, tipo tutti i racconti di Edgar Allan Poe, tutti i racconti di Arthur Conan Doyle, e mi risulta che vendessero tantissimo. Uh, hai voglia. Ora, non c'è bisogno certo di prendere solo i grandi autori, ma magari proprio investire sul racconto potrebbe essere un modo per far uscire gli emergenti e non sempre i soliti nomi che... C'è la casa editrice Due Punti, che sta chiedendo ad alcuni autori già affermati, diciamo, di scrivere piccoli racconti, pubblica su carta completamente riciclata, addirittura confezionata grazie a escrementi pressati degli animali, quindi immagino... In Giappone hanno fatto il cacca-burger. Il cacca-burger, ecco, quindi... Il giapponese sono capaci di mangiare qualunque cosa, di produrre qualunque cosa. Francesco, invece, allora, nel reno delle crimere, il dono della vita oltre il dolore, sempre con stilo, questo libro è stato curato da te, è un libro di Laura Regano che era la tua compagna e che ora non c'è più. Sì, è un libro che per me significa tanto, non solo perché è il libro che aveva scritto la mia compagna, ma anche per quelle che sono le iniziative che dietro questo libro ci sono. Laura, come hai detto tu, era la mia compagna ed era una ragazza estremamente vitale, nonostante i problemi che aveva avuto. Laura, a 21 anni, aveva subito un trappianto di fegato per una trombosi epatica, quindi non c'è da prendersela con comportamenti sbagliati o cose del genere. Certo, anche perché ha 21 anni. Diciamo che può capitare, però non è stato il suo caso. E questa esperienza, ovviamente, aveva del tutto modificato il suo modo di vivere e di approcciarsi alla vita. Ha vissuto per dieci anni da trapiantata e nel suo libro più volte torna a pensare al donatore che le aveva permesso di vivere, con parole che sono dolcissime. Lei avrebbe tanto voluto incontrare i genitori di quel donatore per poterli guardare negli occhi e dire grazie della vita che le avevano regalato con quel gesto. E lei dal trapianto aveva cercato di trarre tutto ciò che era possibile trarre. Lei viveva a pieno. Si definiva non una trapiantata, perché non si riduceva all'atto del trapianto, ma si definiva una persona trapiantata. E' vero. E' profondamente vero. Da quel momento lei ha deciso di rinunciare un po' alle cose che possono sembrare semplici e normali per una ragazza di vent'anni e impegnarsi a fondo nella realtà del volontariato e non solo. Lei era presidentessa regionale dell'Associazione Italiana Trapiantati di Fegato, ITF, di cui adesso anch'io faccio parte, e oltre a questo lei aveva dedicato la sua vita professionale anche a uno scopo, che era quello di far sì che più giovani potessero specializzarsi nel settore dei trapianti, nelle varie discipline che a un settore del genere fanno capo, perché non si tratta solo dell'atto chirurgico in sé. Bisognerebbe migliorare tutto un complesso di attività. Anche far capire alla società che il trapiantato è un essere come gli altri. E' un essere come gli altri. C'è una persona che per l'ora è stata importante, che è il presidente nazionale dell'ITF, l'ingegner Carlo Maffeo di Torino, che è un vecchietto di adesso 80 anni, trapiantato da quasi 30, che vive tranquillamente e va in giro a fare i campionati mondiali e le olimpiadi di sport per disabili ed ha vinto non so quante medaglie a livello internazionale in questo settore. Ogni volta che lo incontriamo, che capita di coinvolgerlo in qualche presentazione del libro, lui arriva con una medaglia nuova. E' uno stimolo incredibile vedere questa persona di 80 anni, ancora così vitale, così attivo, così impegnato, e che ha scelto di aiutare le persone che come lui si trovano ad affrontare un problema del genere a capire come vivere. E Laura faceva questa cosa e in più, ti dicevo, si era impegnata nello sviluppo della formazione. Lei aveva promosso con un'associazione che aveva costituito a Bruxelles, dove lei viveva, una serie di progetti di mobilità europea nell'ambito del progetto Leonardo per la formazione di medici specializzanti in ambito trapiantologico. Due suoi progetti, Prometeo e Agora, erano arrivati addirittura a primo e secondo a livello europeo nell'arco degli anni. E più di 20 medici si sono formati in questo settore. Di questi 20 medici, buona parte pugliesi, Caso ha voluto che nessuno dei medici pugliesi sia poi riuscito a tornare in Puglia a mettere a frutto quello che aveva imparato. Questo è drammatico. Questo è drammatico ed è un po' il segno della nostra realtà. Una realtà cinica. Non è solo, ma più che cinica, è una realtà stupida. Io lo definisco così, perché sprecare le proprie risorse, sprecare le proprie energie intellettuali e anche economiche, perché formare un ragazzo, portarlo dal primo anno di università all'essere un chirurgo in grado di eseguire un trapianto, costa. Costa la famiglia, costa lo Stato, costa la regione, costa tutti. In più costa anche un'altra cosa. Noi abbiamo dei dati da cui bisogna partire. Nel 2009, sono gli ultimi dati ufficialmente disponibili, in Puglia ci sono stati 195 cittadini pugliesi, potrei sbagliare di qualche unità, ma siamo lì, trapiantati di fegato. Di questi 195 trapiantati di fegato, solamente 16 persone hanno potuto ricevere il trapianto qui in Puglia. Meno del 10%. Meno del 10%. Tutti gli altri hanno dovuto ricorrere a centri esterni alla Puglia. I costi? I costi sono impressionanti, perché un trapianto eseguito nella nostra regione costa all'incirca 25 mila euro. Almeno questi sono i costi, diciamo, aggiornati al 2007-2008, saranno solo aumentati, non possono che essere aumentati. Un trapianto eseguito in un'altra regione italiana costa il doppio, quindi siamo intorno ai 50 mila euro. Un trapianto eseguito in Europa, in paesi europei, perché molti italiani vanno fuori, quando Laura stette di nuovo male, perché Laura, questo è un passaggio che ho messo, Laura purtroppo è morta ad aprile 2009 in attesa di un secondo trapianto di fegato, e un primo periodo di ricovero lo fece proprio a Bruxelles, perché viveva lì. E a fianco al suo letto c'era una signora di Andrea, che era a Bruxelles, anche lei per un trapianto di fegato. Erano due pugliesi nella stessa stanza, neanche 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 lo stesso ospedale. E, dicevo, costa in Europa quattro volte tanto quanto costerebbe farlo in Puglia. Quindi 100 mila euro. Se poi arriviamo in America, perché a volte si ricorre addirittura a centri americani, i costi diventano esponenziali, perché poi in America c'è un sistema anche diverso del nostro, dove i costi sono meno controllabili direttamente, sono soldi che la regione Puglia comunque poi spende, perché i costi che il paziente sostiene per ricevere un trapianto fuori dalla nostra regione, la Puglia poi li rimborsa. Se si investisse parte di quelle risorse nel potenziamento delle strutture che abbiamo qui e nella valorizzazione delle risorse umane che abbiamo qui o che potremmo recuperare, per la Puglia si tradurrebbe questo. Abbiamo fatto tanto per far tornare i cervelli, no? Abbiamo fatto tanto a parole, posso permettermi di dire questo? Sono d'accordissimo. Perché in pratica manca tanto, manca ancora tanto. E noi abbiamo, noi come ITF intendo, abbiamo un progetto in ballo che nasce sempre da una frase di Laura. Laura diceva, Laura fu trapiantata a Torino nel 99, alle Molinette, dal professor Salizzone, che è il più grande centro trapianti d'Europa, come numeri. Viaggiano su una media di 200 trapianti l'anno. Per fare un raffronto, ma che non significa dare un disvalore a Bari, perché per quello che ha fa quel che può, a Bari se ne fanno circa 20 l'anno, quindi dieci volte di più se ne fanno a Torino. Lei fu trasportata d'urgenza da San Giovanni Rotondo, dove era ricoverata per questo trombo epatico, con un aereo militare della protezione civile, trasportata a Torino perché aveva bisogno immediato di un trapianto, altrimenti sarebbe morta. E lei parlando di questa sua esperienza diceva, io mi sto impegnando in questo settore perché voglio che quello che è capitato a me, di essere presa, caricata su un aereo e portata via alla ricerca della vita non debba capitare ad altri, perché chi vive la mia situazione non può trovarsi a dover subire anche il carico ulteriore psicologico di una corsa per la vita. E le risorse umane ci sono, ci sono medici, chirurghi anche adesso già attivi nel nostro centro di Bari in grado di eseguire trapianti, ce ne sanno tanti altri che si sono formati anche grazie ai progetti di laurea che sono fuori e che vorrebbero tornare, ma non possono perché non gli viene offerto, manca una struttura che sia in grado di accogliere queste persone e di valorizzare le loro risorse. Però tu dicevi che esiste un centro trapianti a Bari. Esiste un centro trapianti di Bari, però diciamo che lavora sulla sussistenza. La nostra idea, il nostro progetto... Cioè poche risorse, poche risorse umane. Poche risorse umane e anche poche risorse materiali, tutto sommato. Proprio di recente c'è stato un potenziamento della struttura assistenziale chirurgica perché i letti di terapia per i trapianti da due che erano stanno passando a quattro. Sembrano numeri esigui, ma già passare da due a quattro significa raddoppiare le proprie possibilità di lavoro. Quello che manca però è una reale messa in rete delle competenze, una trasformazione ed è quella a cui noi puntiamo con il progetto che stiamo promuovendo come ITF insieme a due centri importanti che sono quello dell'Hospital Saint-Luc di Bruxelles, del professor Gigoe e del professor Lerout e con il centro di Pisa dei trapianti di fegato del professor Filippone, che è un altro centro importantissimo. Noi abbiamo proposto e stiamo cercando di realizzare insieme a questi centri che Bari possa diventare un centro di ricerca e trapiantologia in ambito delle malattie epatiche di livello mediterraneo. Per far questo ci sono possibilità infinite. Anche perché nel Mediterraneo, dicevi tu, l'incidenza delle malattie epatiche è forte. È altissima. Un altro dato, uno dei partner di Pisa in un progetto di ricerca che si chiama Tebera è l'Egitto. In Egitto hanno un'incidenza endemica di HCV, l'epatite C, che se non ricordo me...